Ciao, sono Gabri Costa. In questo gioco di Spider-Man Shattered Dimensions vi farò ogni video recensione con tutte le sfide da completare, capite? Fidatevi di me. Io voglio spiegarvi le quattro sfide del primo atto che dovete completare. Ora vi spiegherò le sfide di Kraven e il cacciatore quando sarete nella dimensione amazing del primo atto, ma dovete capire quali sono le più facili e più difficili da completare. Dovete capire il titolo e anche la descrizione. Voi dovete raggiungere il terreno di caccia di Kraven. Usate dei calci veloci per far cadere cinque tiratori dalle loro postazioni. Dovete trovare tutti i ragni nascosti. Distruggete dieci colonne nello scontro finale contro Kraven. Sconfiggete tutti i cacciatori nel cortile principale in meno di quattro minuti. Colpite con la ragnatela dieci cacciatori. Schivate dieci proiettili del cecchino di Kraven nell'area della cascata. Eseguite cinque oscillazioni consecutive senza toccare terra. Colpite dieci cacciatori usando vasi di coccio. Raccogliete trentacinque emblemi del ragno. Sconfiggete un cacciatore Golia con una presa finale. Sconfiggete Kraven nell'arena in gabbia. Poi sconfiggete trentacacciatori. Sconfiggetene dieci. Poi schivate dieci nemici usando la posizione difensiva. Bene, abbiamo finito. Vi ho detto tutte le sfide di Kraven e il cacciatore del primo atto di Spider-Man Dimensions e della dimensione Amazing. Ora se questa video recensione vi è piaciuta mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Altri video vi aspettano con altre sfide da spiegare per ogni dimensione. Arrivederci.